Il nuovo spettacolo Quelle cose che vuoi tu Io non riesco più a capire Le tue forze, le tue no Foyer del teatro Diana, prima della prima Disturbiamo il maestro Maurizio Casagrande Che stasera andrà in scena e sarà qui fino al 10 febbraio Con Mostri a parte, spettacolo di cui firma anche la regia Con una straordinaria compagnia Tanto divertimento ma si riflette anche un po' Su quella che la società attuale è lo spettacolo Il mondo dello spettacolo attuale è trevisivo Ti racconta Assolutamente sì, ti dico che non sono in doppia veste Sono in tripla veste perché in realtà sono anche autore Insieme a Francesco Velonati Questo testo E quindi tre volte emozionato per questa serata Che è il mio ritorno al Diana Dopo qualche anno perché ci sono venuto Per cose insomma occasionali Ma in abbonamento ufficialmente con una compagnia diciamo di giro Come viene definita Insomma era qualche annetto Quindi sono molto felice perché quando vengo qui è come tornare a casa Perché tutte le cose migliori e più importanti sono cominciate in questo teatro E quindi sono sempre ritorni importanti Questo è uno spettacolo che gioca Perché gioca? Io non faccio mai sul serio, non mi piace Però gioca su un argomento molto attuale Che è quello del mondo dello spettacolo in generale Lo show business diciamo Come viene definito da qualcuno più anglosassone In questo mondo dello show business Dove ormai il fermento e tutto quello che viene fuori Nasce da situazioni che arrivano da tutte le parti Tranne che dai canali che invece dovrebbero forgiare I nuovi artisti, i nuovi talenti del domani E quindi gioca su questo Niziana De Giacomo in questo spettacolo è una vampira No, il ruolo della mia moglie Invece è interpretata da Giovanna Rei Ed è con lei giochiamo i due lati di una medaglia Le due facce di una stessa medaglia Cioè da un lato un uomo con grande talento Grande senso artistico Ma assolutamente incapace di vendersi Vendersi nel senso buono della parola Quello c'è di rappresentarsi meglio E soprattutto incapace di mettersi al passo con i tempi Invece lei è una donna dotata di poco talento Piuttosto così mediocretta Ma con una straordinaria capacità Di mettersi in mostra e di farsi notare Quindi sono i due mondi a contrasto Forse nella società di oggi Io gioco su una cosa In questo spettacolo a un certo punto Io di cui sono cresciuto Conoscendo sì i mostri Ma i mostri sacri I mostri di bravura Ma chi stia invece sui mostri overe Facciamo riferimento anche a qualche aspetto cinematografico So che insomma ti sei ispirato anche un po' a Frankenstein Junior È vero? Allora più che ispirato a Frankenstein Junior Perché in realtà di Frankenstein Junior A parte delle citazioni c'è poco Però abbiamo usato il meccanismo di Frankenstein Junior Perché è il meccanismo di un uomo Che viene richiamato in un mondo che non gli appartiene Attraverso un'eredità che gli viene consegnata Lì era il dottor Frankenstein Che chiamava il suo erede Frankenstein Perché non voleva assolutamente far parte di quel mondo così becero Che lavorava cercando di ridare la vita alla carne morta Invece in questo spettacolo io mi chiamo Franco Gecchi E sono a mia insaputa un erede Quindi il mio cognome è stato travisato dall'originale Gekil Che è il dottor Gekil Lui è lo famoso della pozione Che lo trasformava in Mr. Hyde Oltre a una straordinaria compagnia Anche tanti effetti scenici Abbiamo visto un maxi schermo Quindi delle proiezioni E poi i costumi Il trucco che è importante Visto che appunto ci sono questi mostri Tra virgolette Sì mi è piaciuto giocare con le atmosfere E a teatro ho provato E devo dire con discreto successo Perché insomma mi dicono che la cosa piace E che quindi ottiene l'effetto Ho provato a giocare con degli effetti Che in realtà appartengono più al cinema E soprattutto al cinema antico Cioè se qualcuno di voi più vecchietto O perlomeno più attento al passato Si ricorda ci sono i film degli anni 30-40 In cui per esempio nelle automobili C'era la difficoltà di girare Fisicamente per strada Allora giravano con l'auto ferma In uno spazio E poi mettevano all'esterno Degli schermi su cui venivano proiettati Gli esterni E io faccio questo In pratica da un certo punto Per esempio siamo in un bosco di notte Siamo su una motocicletta E lo schermo proietta un fondo In movimento che però Dà un effetto molto efficace Di un bosco di notte Molto tetro e molto horror Non ci resta che venire a teatro Vorrei che lo stesso Maurizio Invitasse i nostri tre spettatori Qui al Teatro Diana Lo ribadiamo fino al 10 febbraio E se io in questo spettacolo Rimprovero il pubblico Ma non il pubblico Inteso come singola persona Ci metto Maurizio Casagrande Perché anch'io sono pubblico E fruitore di quello che fanno gli altri A tutti dico Attenzione Perché non ci siamo accorti Che a furia di dire Vabbè, 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 vabbè I mostri sono diventati tanti E bisogna invece Cominciare a vedere Delle cose divertenti e carine Questo spettacolo A mio avviso E anche a giudizio Di chi l'ha visto fino ad oggi È molto divertente Si ride tanto Però io sono felice Che si va a casa Oltre che con il sapore delizioso Della risata Senza quel senso di vuoto dentro Che quella cosa di dire Sì, ho capito, ho riso Però poi non significava niente Invece questa storia Dice anche qualcosa Sei pronta Ad essere punita E allora ecco qui Il vermone vendicatore Sei pronta, arrivo Aspetta, non fai messi Fai uscire Che dolore Aspetta Un campo E in questo teatro Il teatro Diana Lunedì ci sarà una grande festa Una bella festa Dove naturalmente tu sarai presente Anche proprio con il cuore Possiamo dirlo Col cuore L'anima E la famiglia Bene Bene, io sono felice Di rappresentare una delle famiglie Napoletane Perché in realtà Siamo due Ma siamo una famiglia Perché siamo padre e figlio In casa grande E quindi sono felicissimo Claudia Mirra Mi ha chiamato qualche tempo fa E disse Senti ma perché non organizziamo Una bella serata D'onore per tuo padre Io sono convinto Che mio padre E lo dico io Questo non è una cosa Che deve essere per forza condivisa Ma io ne sono sicuro Mio padre è un attore Che ha avuto Sicuramente una bellissima carriera Ma secondo me Ha avuto meno della metà Della metà Degli spazi E dei riconoscimenti Che meritava un attore Della sua levatura E' uno straordinario attore Che adesso Che è un signore Di una certa età Molto importante Ha ancora tanto da dire E ancora può tanto emozionare Allora serata d'onore Per Antonio Casagrande Noi ci saremo Sarà una bellissima serata E lo merita Perché è veramente Un pezzo di storia teatrale E anche cinematografica Della nostra storia nazionale Tiziana De Giacomo Prima della prima Sei intenta naturalmente A prepararti Perché si debutta Per questo spettacolo Mostri a parte In scena al Diana Fino al 10 febbraio Un bellissimo ritorno Qui di Maurizio Casagrande Uno spettacolo divertente Che però fa anche riflettere Assolutamente Fa riflettere Praticamente Noi parliamo Un po' Della televisione Tra virgolette Trash Che ogni giorno Purtroppo Come dire Circonda anche La nostra La nostra vita E noi con questo spettacolo Non facciamo altro Che dare appunto Questa riflessione Su tutti questi Tra virgolette Mostri Che circondano Che circondano La televisione di oggi E lo facciamo Attraverso i mostri Del cinema Degli anni 30 Nel mio caso Ad esempio Interpreto Una vampira La vampira È colei Che succhia il sangue Quindi potrebbe essere Tipo Una valletta Di turno E quant'altro E poi tutto il resto Lo scoprirete Qui a teatro Come sarà questo 2019 Per Tiziana Eh spero Pieno di lavoro È iniziato bene Qui al teatro Diana Che poi vede anche Un po' il mio debutto Tra virgolette Teatrale Infatti oggi Sono abbastanza Emozionata E mi torno Dopo otto anni E niente Spero pieno di lavoro A me mi ha sempre aiutata E per forse Perché ti vuole portare a letto Perciò ti aiuta Ma poi Gli sei rimasta a kill C'è un'imagine qua, ma se non gli diamo la storia.